Le celeb che hai incontrato, tipo, almeno il personaggio del tipo, non so se a te è successo veramente, come si chiama l'attore che faceva il supercar, con tanto di macchina, Hasselhoff, David Hasselhoff, lui l'ho visto tante volte, aveva veramente la macchina? No, non aveva la macchina. Ciao Chiara e benvenuta al podcast. Ciao Daniele, grazie. Senti, tu sei stata e lo racconti in questo libro, Terremoto, in America per un bel po', in un periodo in cui internet o non c'era, o comunque non esisteva, però diciamo non era così diffuso, per cui l'America era veramente l'America, era un posto molto lontano. Cos'erano le cose che ti hanno colpito di più, insomma, un po' nel libro racconti, però, insomma, anche adesso ripensandoci, cose che ora sembrano normali, ma che allora invece colpivano? Beh, sì, in effetti fa… non riesco a pensare di essere riuscita a sopravvivere lì nel predigitale, se non fosse altro per… mi chiedo come facevo ad arrivare da un posto all'altro, perché poi ci sono queste distanze incredibili, senza l'aiuto del navigatore, senza delle mappe. C'erano questi libroni, che erano come il nostro tutto città americano, che erano delle cose così, che tu ti infilavi in macchina con delle griglie complicatissime, che andavano più o meno per quartieri e… vabbè, insomma, è tutto un rivangare su quella fettina di tempo prima del digitale. Forse la cosa che più, comunque, secondo me è abbastanza indicativa, insomma, di ripensare a quel tempo e quel luogo nel fatto che fossimo nel predigitale è proprio, appunto, sono sicuramente le rivolte razziali che ci sono state di Rodney King, perché quella è stata la prima volta che è stata ripresa una violenza della polizia nei confronti di un afroamericano ed è poi stata inoltrata a un newscaster americano ed è poi diventata virale. Però è diventata virale, insomma, nel senso che è andata sui telegiornali di tutto il mondo e tutto il mondo ha potuto vedere queste immagini. Però se pensi a quanto tutto questo poi oggi sia invece completamente all'ordine del giorno e quanto accesso abbiamo a queste informazioni e quanto Black Lives Matter si è fondato esattamente sulla possibilità di poter reagire e, come dire, fare resistenza tramite l'uso del telefono, del poter riprendere, del poter documentare, ecco, quella sicuramente è stata, come dire, la prima avvisaglia di quello che sarebbe poi potuto succedere. Senti un po', ma le strade a Los Angeles sono divise sempre con i numeri, come New York, come funzionavano? No, le strade hanno, non sono, non, cioè, c'è una parte di Los Angeles, che era la parte dove vivevo io, che è la San Fernando Valley, che ha in effetti questa struttura un po' tipo griglia, cioè, appunto, insomma, cruciverba. Non sono numerate, hanno sempre dei nomi assolutamente banali, nomi di alberi o piante o frutti, insomma, siamo proprio sul terra-terra, anche perché la San Fernando Valley nasce come un aranceto, era un enorme aranceto e che poi, ovviamente, se ti ricordi, Chinatown di Polanski poi è stato preso e strumentalizzato e le lobby di tutte le persone che avevano a che fare con il business dell'acqua l'hanno poi... C'è chi dice che sia la sceneggiatura perfetta, Chinatown. Beh, sì, sì, è molto studiata nei manuali di sceneggiatura. Quindi, appunto, i nomi delle strade sono tutte tipo, non so, Orange Grove, Lemon Lane, cioè tutto lo spettro di arance e limoni. Gli agrumi, è tutto un agrume. La valle degli agrumi. Invece, no, invece poi tutto il resto, appunto, sono i canyon, c'è invece una conformazione geologica molto difficile da segmentare, e quindi ci sono anche delle stradine che finiscono in dei vicoli ciechi, in mezzo a delle colline, delle strade sterrate che improvvisamente si ricongiungono con delle autostrade. Dici, ma com'è possibile? Quelle servono per essere il killer, per avere poi materiale per fare i film. Esatto. No, mi è venuta in mente, mentre parlavi del tutto città, io anni successivi rispetto a quelli che racconti tu nel tuo libro, ho vissuto un anno a Berlino e mi ricordo quando sono arrivato, internet c'era, era un fenomeno di massa, ma non era, cioè c'era sui telefoni, ma non c'erano le app, le connessioni funzionavano malissimo, eccetera, non si usava ancora. E mi ricordo che arrivai con un pezzetto di carta, con la metro da prendere, che mi aveva detto un amico prima al telefono, eccetera, e poi il treno dove cambiare, tutte cose che oggi non faremo mai, e che però alla fine si viveva tranquillamente anche allora. Ce la faceva, riuscivamo ad arrivare dove dovevamo arrivare. Però senti, passai da una città comunque bella, nonostante tutti i suoi problemi, poi magari tra l'altro al tempo ne aveva di meno, come Roma ha un posto che, insomma, per certi aspetti ha un grande parcheggio, com'è stato? Sicuramente alienante all'inizio, come alienante Los Angeles, soprattutto oggi è una città molto più, insomma, si è molto urbanizzata, nel senso anche ha degli aspetti che assomigliano anche di più a una specie di New York, a livello, diciamo, sia culturale che di trasporti, che di creazioni di quartieri dove si può anche camminare, non solo dover prendere la macchina. E tu a un certo punto fai questa cosa nel libro, che cammini per una strada lunga chilometri, come atto, diciamo così, non comune. Sì, no, c'è una grande, in realtà, fetta della popolazione losangelina, c'era e sicuramente c'è ancora, che cammina. Sono, cioè, è molto interessante camminare a Los Angeles, c'è un libro molto bello di questo scrittore critico che si chiama David Hulen, che si chiama Sidewalking, ed è proprio, cioè, la tradizione del camminare in una città come Los Angeles a cosa porta e che tipo di incontri porta. Sicuramente è un viaggio in sé, nel senso che è una città talmente grande che non si percorre mai a piedi, e invece chi la percorre a piedi incontra veramente delle cose abbastanza spettacolari, cioè c'è un sottobosco, sicuramente, cioè, andare a piedi è il mezzo di trasporto degli immigrati, dei senza tetto, delle persone sicuramente che sono al margine della società, però ti racconta anche qualcosa sicuramente sulle tradizioni della città, su chi riesce a farcela, dove vanno a finire le persone che invece non ce l'hanno fatta e perché, quindi, in realtà, è un vero modo per conoscere proprio anche la città stessa e i limiti, i grandissimi limiti della città. Poi ci sono sempre queste ondate in cui a un certo punto arriva qualche tipo di sindaco che spazza via tutti i homeless e li infila in una strada, c'è sempre Skid Row, ovviamente, a downtown, che è un po', come dire, questo villaggio allargato, questa specie di baraccopoli nel pieno centro della città dove comunque vivono... E adesso è in espansione, no? Quella situazione di senza tetto. Sì, sì. Ma adesso parlavi del fatto quanto sia strano, comunque non comune, andare a piedi, mi è venuto in mente, è presente, non so se hai visto la serie Atlanta, quella con Glover. Ne ho visto delle parti, sì, non ho visto... Secondo me è una serie molto bella, scritta e girata molto bene, e a un certo punto c'è un personaggio, diciamo, secondario, ma proprio il... Anzi, il secondo protagonista, diciamo, che per una serie di vicissitudini si trova a camminare da solo, cioè a camminare per strada, e tre ragazzi lo fermano. Lui è un rapper semifamoso, diciamo, e dico, ma perché sei a piedi, no? E poi lo rapinano, però si capisce, cioè non è detto esplicitamente, che però è come se lui camminando a piedi avesse proprio attentato alla sua immagine pubblica, no? È molto forte come scena, poi anche è molto violenta, però, insomma, di una valenza vera, insomma, è una delle tante belle scene forti di quella serie, e quindi... Perché comunque anche vivere sempre immediati in Italia può essere un po' così... Nelle periferie, nei paesi del Veneto, magari. C'è questa situazione con le auto, tutti si spostano in auto, no? Infatti vedete differenze, però... No, è vero che camminare è un po' un affronto, cioè un po' una... Cioè, se decidi di camminare sei, come dire, sei parecchio sfrontato, cioè te la vuoi proprio rischiare, perché chi cammina non ha armi, non ha difese, chi è in macchina ha già una corazza attorno. Infatti, da adolescente, credo che le cose, insomma, anche più violente forse che mi siano successe a Los Angeles sono successe perché andavo a piedi, e perché comunque sei veramente un po' preda. Una volta, mi ricordo che facevo babysitting, là c'è questa tradizione che se sei una ragazza adolescente del quartiere devi fare babysitting per i bambini del quartiere, e te la fanno sembrare come il tuo primo lavoro, così mi ricordo che mi pagavano forse 2 dollari e 50 all'ora, o 3 dollari all'ora, quindi erano proprio dei soldi che quando finalmente arrivavo a quei 20 dollari ero proprio fierissima, perché comunque ti davano due lire, perché era una cosa quasi che dovevi fare per un senso di comunità del tuo quartiere, della tua strada, eccetera. C'è un po'... ma scusami, finisci. Mi ricordo che con questo mio fidanzatino, dopo la mia serata di babysitting, siamo andati, non so, appunto a piedi a una festa, sempre arrivandoci dopo varie ore, ci siamo fermati in una stazione di servizio a comprare non so che cosa, e ci hanno preso con i coltelli alla gola praticamente quando siamo usciti. Questo fatto di dovergli dare, dammi tutti i tuoi soldi, dovermi dare i miei 20 dollari sudatissimi del babysitting mi ha veramente dato fastidio. Però mi ricordo la sensazione quasi come di una specie di rito di passaggio, cioè ovviamente mi sono spaventata perché ci hanno veramente messo i coltelli alla gola, però è stata una... c'era qualcosa nella mia testa che mi ha fatto dire, sì vabbè è normale, ovviamente state camminando, è ovvio che a un certo punto arriva qualcuno che ti mette un coltello alla gola, quindi c'è anche una specie di modo in cui il tuo cervello si connette, che è un po' strano sicuramente, insomma. Poi è andato tutto bene, quindi era come se si fa, ti doi soldi, togli il coltello e... Però poi la babysitter, beh, farla tu potevi dirlo. Senti, ma una cosa molto divertente del tuo libro è che comunque c'ha questa ironia intelligente, costante, che viene fuori in alcuni momenti quando serve, io l'ho trovato molto riuscita. È anche un po' appunto il contrasto fra una ragazza italiana, comunque che viene dal liceo, quindi insomma politicizzata come spesso si era in quegli anni, penso si sia anche oggi, con poi questa realtà invece totalmente diversa e questa è una cosa su cui tu giochi in più di un'occasione ed è abbastanza divertente, no? Diciamo la visione dell'America che poteva avere un studente di liceo italiano di quegli anni e poi invece come loro vedevano te, no? Come un profugo quasi e abbastanza... Non so se poi... A questo io sto dicendo te, però in realtà è personaggio libero, non so se poi è successo anche a te questo nella realtà. Cioè di avere una visione un po' caustica della... No, una parte che ad esempio mi ha fatto abbastanza ridere è quando appunto tu dici che gli insegnanti erano fascisti e loro pensano che fossero veramente fascisti, non che diciamo fascisti come si dice, capito? Quando si ha 16 anni che tutto il mondo è fascista, capito? E però loro ti prendono sul serio e dicono, vieni da un paese effettivamente dove c'è un regime autoritario e quindi magari non può studiare quello che vuoi. Sai quelle cose che gli americani pensano di essere l'unico paese libero al mondo, no? Assolutamente. No, no, questo era molto presente. Poi appunto in effetti era un mondo ancora piccolo per certe cose, cioè l'Europa da Los Angeles sembrava veramente lontana in quei tempi. per arrivare a Roma da Los Angeles c'erano tre aeree mi sembra, mi ricordo che ancora si poteva fumare in aereo, quindi un'altra era veramente. Quindi gli americani di lì avevano un'idea molto vaga di che cosa fosse l'Italia, c'era una grandissima confusione tra l'Italia e la Sicilia. Cioè pensavano che fossero due paesi diversi perché capivano che la Sicilia c'entrava qualcosa con l'Italia, ma pensava che l'isola fosse un paese a sé praticamente. Quindi c'era molta confusione, ma sei italiana o sei siciliana? C'era appunto, vengo da Roma, allora c'è una Roma in Florida, anzi c'è una Naples in Florida, però facevano, e c'è una Rome in Georgia. Quindi immagino saranno posti bellissimi peraltro, no? Eh? Immagino siano posti bellissimi. Bellissimi, sì. Quindi era sempre un dover spiegare insomma che esisteva un mondo là fuori e sì c'erano insomma tantissimi misunderstanding devo dire e c'era un'ignoranza che secondo me oggi proprio culturalmente non esiste più e anzi Los Angeles è diventata una città piena di europei oggi, quindi insomma si è tutto rimescolato, però in quei tempi era veramente, sì, c'erano sicuramente assistito a delle, dovuto rispondere a delle domande piuttosto imbarazzanti. Non è forse che comunque è diversa una scuola da magari l'ambiente che frequenti adesso da scrittrice, sceneggiatrice facendo questo mestiere? Immagino che le persone che frequenti siano un po' diverse rispetto a quello che puoi incontrare in una scuola. Quello sicuramente, se uno cresce poi a un certo punto si sceglie anche le persone e quindi non so com'è, come oggi una scuola pubblica di Los Angeles con dei 15 anni, non so qual è il livello di conoscenza, però insomma diciamo che tutto il mondo è diventato molto molto più piccolo, quindi sicuramente è tutto più veloce e la comunicazione e l'informazione ria più rapidamente, quindi immagino che alcune cose ci siamo stati dicendo. Ci vai spesso ancora? Sì, chiaramente nell'ultimo anno e mezzo non sono, non sono stata, però è stato l'ultimo luogo dove sono stata, l'ultimo grande aereo prima della pandemia e sì è stato anche molto buffo perché eravamo lì, stavamo presentando un film che ho scritto che è il film di Ginevra Elkan che si chiama Gary e c'è questo festival di cinema italiano a Los Angeles e avevamo, insomma era febbraio quindi figurati avevamo proprio le prime avvisaglie, la cosa stava cominciando a diventare seria, però eravamo ancora in quella fase cinica di ma che fai se ti metti la mascherina per andare in aereo, no, dai la mascherina, poi non so, vabbè io sono anche passata in farmacia a comprarle queste mascherine ma neanche le vendevano quindi alla fine niente mascherina, dai, oppure c'era ancora l'idea che fossero, no, è arrivato un aereo pieno di cinesi, sono i cinesi che hanno portato attenzione, mi raccomando, e incredibilmente come così due settimane dopo il nostro ritorno il mondo è totalmente, si è piegato su se stesso e le cose non sono mai più tornate come quelle di prima, quindi mi fa sorridere quell'ultimo viaggio a Los Angeles perché con sé porta una tale naivite e penso anche se rivedo le foto di quel momento lì vedo proprio un'innocenza nei nostri occhi che sicuramente non ci appartiene. Io sono stato a gennaio a New York, sono stato al ristorante metropolitano che ho toccato tutto dappertutto e poi dopo, però lì ancora non è che si sapesse ma chiaramente era già in circolo la cosa. Invece mi ricordo in Italia un viaggio in treno tornando a Roma dal nord dove c'era, io avevo una mascherina chirurgica che in un treno non serve a nulla e altre due persone in tutto e c'era questo clima, sì vabbè, ma effettivamente è stato così. Vabbè interessante comunque quanto sono cambiate anche attraverso quanti paradigmi di lettura della realtà siamo passati in un anno e mezzo, che di solito le cose non cambiano così rapidamente, no? Sì, incredibile, quanto tutto in due settimane ti sembri acqua passata. Ma ti ricordi quando disinfettavamo la spesa? Ma ti ricordi quando disinfettavamo le manine? Sì, oppure comunque anche pensa alle famose canzoni dai balconi, poi alla fine quei numeri grosso modo sono tornati anche in autunno, ma nessuno si sognava più di fare una cosa del genere, hai capito? Anche lì è interessante quanto poi conti la novità, il fattore novità, rispetto a quello che è il dato effettivo. Quel secondo figlio, l'esperienza mistica al secondo, tipo quando devo partorire? Sì, 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 mi fa ridere, c'era questa mia amica regista che stava tornando anche lei, vive a Londra, aveva un film a Sundance e si era fermata a Los Angeles e quindi siamo sempre in quella zona lì febbraio, gennaio, febbraio. A questa cena aveva incontrato lo sceneggiatore, ora non mi ricordo più di quale importantissimo disaster movie, ma proprio uno di quelli fondamentali del cinema, ora mi verrà in mente quale, però insomma. E lui le disse guarda il mondo sta per cambiare e se tu prendi l'aereo domani mi raccomando mettiti la mascherina e lei fece per stringergli la mano e lui disse no, io non stringo le mani a nessuno. E tutta la festa lo prendeva per il culo e sembrava già un film, la classica scena del film hollywoodiano del disaster movie in cui c'è uno, il famoso complottista, mamma mia, oddio quello che palle e in effetti però lui appunto avendo fatto la ricerca che aveva fatto, non mi ricordo adesso più quale disaster movie, era completamente cosciente del fatto di esattamente la strada che sta. Sì infatti, ma guarda qui al podcast è stato Fabrizio Gatti che è un giornista dell'Espresso che adesso ha pubblicato una lunga inchiesta sul covid e lui a un certo punto nel libro racconta anche proprio di gennaio quando ha un incontro con un funzionario, non mi ricordo di quale ministro, ministero italiano, dice guarda che lui al funzionario dice guarda ha l'ansia della funzionaria, dice guarda la situazione è molto seria e lo dico come stai dicendo? Quindi io invece mi ricordo, io proprio due giorni prima del primo lockdown ho portato la macchina a fare tagliando perché è stato molto utile poi, no perché poi mi scadeva e avevo una mascherina, ho incontrato una vecchia sostanzialmente sul macchiappile e questa mi ha guardato come se fossi pazzo, io volevo dire guarda che dei due è quella che dovreste averla, ma comunque vabbè solo poi alla fine ci siamo adottati. Tu mi dicevi che hai sofferto un po' però. Durante il lockdown? Sì, come tutti insomma mi sembra. Credo che siamo tutti arrivati a una specie di resa dei conti oltre insomma così mondiale ma anche personale in cui proprio i nodi di ogni cosa sono arrivati al pettine e prima o poi secondo me nell'arco dell'ultimo anno chi prima chi dopo a un certo punto ha dovuto proprio fare un incontro faccia a faccia con i propri fantasmi, con le proprie paure, con le proprie ansie e metri quadrati anche, con i propri metri quadrati anche. Con i propri metri quadrati, con le proprie scelte di vita, di compagni, di figli, di... sì insomma è stata una grandissima resa dei conti, è stato insomma complicato ma insomma inutile che lo dica, lo è stato per tutti. Noi eravamo fortunati perché siamo... eravamo da una parte fortunati perché siamo rimasti in... eravamo in campagna e lì siamo rimasti, dall'altra parte c'è stato anche chiaramente l'aspetto Overlook Hotel, c'è un paesino fantasma, il vento, neve, isolamento e angosce esistenziali che si sono moltiplicate all'ennesima potenza però con il lato B... L'acqua si è ghiacciata? L'acqua si è ghiacciata, grandi racconti ravvicinati con tantissimi animali anche non... non buoni, non benevoli, quindi un forte impatto con la natura, interessante. Ma tu da... da... partialmente americana eri armata o...? Ehm... in realtà non ero così armata perché la mia idea è sempre che in Italia ci sia... ci sia una natura molto più benevola di quella americana, invece una natura violenta in cui in città ci sono i leoni di montagna e possono entrarti dentro la cucina gli orsi e tutta quella... tutta quella cosa lì... Quindi la mia idea è sempre stata quella di Manol, il Mediterraneo, la... i Pini, cioè questa specie di natura sognante un po' bucolica e... Ehm... Perché invece lì sei... cioè sei armata in America? Psicologicamente sì. Ah ok. Comunque se vai a fare una passeggiata in un luogo impervio, una cosina, uno spruzzino te lo porti, ti viene in mente. Ci pensi, insomma... Ci... sì. Io devo dirti che finché non avevo visto la natura com'è in quelle... in America, ma penso anche in realtà in molti altri posti del mondo, con quell'intensità che qua da noi in Europa non c'è perché si è un continente ultra urbanizzato, non avevo capito fino in fondo questa esigenza di darmi da fuoco anche. Cioè è facile condannarla da noi, poi per carità c'ha in ogni caso nelle città dei profili di rischio, comunque è una cosa soggetta a dibattito, però effettivamente se uno vive in quei posti posso capire che ne si entra bisogno. Io sono stato nell'Alberta che c'era un centro per artisti che mi avevano invitato e io non avevo mai visto così tanta natura tutta in un posto. Cioè nel senso due ore di macchina nel nulla, non sono questa stradina, boschi, alci, grizzly. Grizzly non li ho visti per fortuna, però insomma quella densità là in Europa non ne fa esperienza. No, però non so se questo si riconnette col discorso delle armi da fuoco. Beh, guarda, sulle città magari no, ma comunque se uno abita in quei posti io sinceramente lo capisco. Sì, sì, sicuramente, purtroppo, insomma, è una tradizione che sicuramente nasce anche con l'idea di avere uno strumento in più rispetto ai nemici là fuori che possono prendere la forma di orsi e evolversi poi in tanto altro. Ti facevi lo spray anti orso? Sì, spray anti orso. Quello purtroppo in Italia non lo vendono perché... Beh, anche un po' abbiamo un po' meno... Beh, vabbè, in Trentino hanno avuto l'idea geniale di rimpiantarli, quindi dovrebbero anche vendere lo spray anti orso, però... Le cose, insomma, non sono molto conseguenti in questo caso. Senti, e poi l'altra cosa che immagino tutti ti chiederanno, tu le pati un po' anche nel libro, le celeb che hai incontrato. Tipo, almeno il personaggio tipo, non so se a te è successo veramente, come si chiama l'attore che faceva supercar? Con tanto di macchina. Non è da dire Michael Knight. No, come si chiama? Hasselhoff. Sì, David Hasselhoff. Sì. L'hai visto veramente? Sì, lui l'ho visto tante volte. Aveva veramente la macchina? No, non aveva la macchina. Però viveva nella valle, quindi lo vedevo spesso. È altissimo. Non aveva la macchina, però era lui, era vestito di pelle dall'alto in basso, cioè ha totalmente mantenuto il suo look. Te l'aspettavi di vedere la macchina. Senti, un'altra cosa interessante di questo personaggio è che, come si sarebbe detto una volta, almeno diciamo l'ambiente da cui vengo io, è una persona che si mette un po' nei casini, no? O, probabilmente, magari nel tuo si sarebbe detto esplora e va a vedere, insomma, gli aspetti più... Non so neanche come definire. Comunque è una persona curiosa che si mette anche in situazioni potenzialmente rischiose, però sempre con grande savoir fare. È molto... È molto... Beh, nel senso, alla fine, poi dopo, anche quando succedono cose, no, un po', come dire, impreviste, non viene abbattuta veramente da questa cosa. C'è una grande capacità di sopravvivenza, mi sembra. Sì, se la cava. Eh, questo è interessante. Sì. E volevo sapere, sì, ma se tu anche sei così nella vita, cioè se ti metti in situazioni un po' fuori dalla, no, dalla famosa comfort zone. Beh, abbastanza, credo di sì, comunque sono di natura abbastanza curiosa, curiosella. Però sicuramente c'è anche una dose di riuscire a rientrare comunque in un binario per non, insomma, deragliare troppo nella mia vita personale. Poi, chiaramente nel romanzo, sia perché è un romanzo che perché comunque parla di adolescenza, questo binario sicuramente, insomma, viene allargato parecchio. Anche perché quando sei adolescente hai molta meno coscienza e sei più spericolato e sei più, insomma, predisposto. Meno coscienza delle cose brutte che possono succedere anche, in tutti i sensi. Sì, sì, ma sì, sicuramente anche è più… era un luogo dove mettersi nei guai era anche molto facile. Nel senso che poi Roma è una città comunque avvolgente, protettiva, che in qualche modo ti accudisce, anche lo vedo ora che sono madre, se vado con dei bambini in una piazza e mi distrago un attimo, lo so che ci saranno altri cento occhi su quei bambini. Questo aspetto lì non era assolutamente presente, cioè l'individualismo di un po' si salvi chi può e sicuramente si sente di più. Senti, un'altra cosa che si nota nel libro, che io ne ho tratto veramente sin dalle prime pagine, è la densità di fatti che succedono, che lo pone secondo me un po', se non al di fuori, comunque non pienamente nel canone della letteratura italiana contemporanea, che è una letteratura dove in genere non succede tantissimo nei romantici. Ci sono tantissime eccezioni, per carità, però diciamo non è la cosa più frequente. Invece in questo libro succedono tantissime cose, hai una lingua anche molto sotto controllo, cioè nel senso che non ti abbandoni mai a delle cose poi che rischiano anche di venire male, eccetera, degli eccessi stilistici, dei virtuosismi inutili, eccetera. Un ritmo secondo me veramente ben riuscito e quindi complessivamente non si può dire che non sembri un libro italiano, perché si sente che sei italiana da parte per le cose che dici, ma anche poi per la lingua, però ha molte cose che ricordano invece la narrativa americana o in generale di altre tradizioni. Sì, 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 ho studiato letteratura all'università lì, ma già al liceo comunque ho cominciato a studiare letteratura americana. E poi sicuramente all'università, diciamo gli ultimi due anni di università, tu devi cominciare a dare un po' una direzione di dove stai andando a parare. E c'è questa specifica in cui ti puoi laureare in letteratura e scrittura creativa. E quindi nella scrittura creativa ci sono degli workshop che tu fai con dei professori che di solito sono degli scrittori, insomma sempre sono degli scrittori e quindi quei professori diventano per te proprio la chiave di tutto, perché sono le persone che ti aprono il cervello e che ti danno i libri, che ti insegnano ad ascoltare la voce nella scrittura degli altri, che ti insegnano ad avere uno sguardo critico, anche diciamo rispetto all'editing da fare. Quindi questa tradizione comunque di creare degli workshop in cui ogni studente porta il proprio racconto, il racconto viene discusso in classe, ti fa veramente cominciare a capire che cosa funziona, che cosa non funziona, dove asciugare e ti segna comunque. Quindi sicuramente quell'esperienza lì per me è stata molto bella e molto molto formativa. Poi insomma sono stata fortunata, ho studiato con Angela Davis che è questa ex pantera nera attivista politica e un altro professore di psicologia che era un famoso professore alla mia università che negli anni 70 aveva fatto un grandissimo esperimento con i suoi studenti, che avevano tutti preso l'LSD, quindi questa specie di grande anche tradizione sperimentale che appartiene molto alla California. Come si chiamava lui? Si chiamava, perdendo il suo primo nome, il suo cognome era Barron, mi sembra James Barron ed era un personaggio incredibile, buffissimo. In realtà era una persona assolutamente molto sobria, apparentemente distaccata. Scusa, Frank Barron, non James Barron. Frank Barron. Perché qua a Podcast è stata Aniese Codignola a parlare del rinascimento psichedelico, so che molta gente che segue è appassionata dell'argomento, anche alcune persone che conosco insomma, c'è un po' questa... ma quasi una moda ormai, però comunque ha anche una sua rilevanza culturale sicuramente interessante. Ma invece tornando alla letteratura, secondo te quali sono le differenze maggiori di impostazione tra lì e qui? Di impostazione... non lo so, sicuramente, cioè secondo me è un po' un peccato che... Io mi ricordo che per esempio quando tornavo e dicevo cosa studi, studio scrittura creativa, i miei amici coetanei mi ridevano in faccia, ma vabbè io allora studio cucina. Mandolino. Fosse una cosa totalmente pelleitaria e impossibile da insegnare, no? E quello secondo me è un po' un peccato, cioè oltre chiaramente c'è la scuola, c'è la Holden, c'è Roma Molly Bloom, ci sono delle realtà che sono nate, che hanno a che fare proprio con i corsi anche di scrittura, che secondo me sono fondamentali per chi vuole scrivere. Cioè che l'esperienza della scrittura non sia soltanto questa specie di castigo autoimposto in cui uno deve stare in una stanza a leggere, a scrivere, a leggere e scrivere, ma l'idea di poter comunicare, di avere delle persone che ti leggono, che ti editano... quella tradizione secondo me è una tradizione importante che esiste là, perché poi ti rimane, nel senso che anche se poi ovviamente non hai più la scuola, però io ho sicuramente degli amici, uno di loro tra l'altro è un carissimo amico che purtroppo è morto da poco, che si chiama Giancarlo di Trapano, che aveva una casa editrice molto sperimentale, meravigliosa, che si chiamava Tyrant Press, e lui era proprio un grandissimo punto di riferimento per un certo gruppo di scrittori che gli mandavano i loro racconti, lui faceva un editing, ce li leggevamo tutti tra di noi, anche se poi in realtà a distanza e ognuno magari in paesi anche diversi eccetera, però questa circolarità e questo mettersi in gioco e accettare le critiche e come dire strutturare il proprio lavoro anche attorno alle voci di altre persone, alle opinioni di altre persone, secondo me è una tradizione abbastanza importante e che secondo me è un peccato che in Italia per esempio non ci sia la possibilità di insegnare la letteratura, la scrittura creativa anche nelle scuole, nel liceo, alle elementari, cioè ritagliare uno spazio in cui la letteratura può anche aprirsi a una scrittura che non sia soltanto diciamo saggistica o un tema o qualcosa di accademico, ma che insomma ci sia proprio uno spazio... Tra l'altro anche la saggistica può, entro una certa misura, avvantaggiarsi dei tecniche narrative perché è uno dei motivi, se comunque non è l'unico, ma se i saggi di scuola anglosassone hanno più impatto e vendono di più e vabbè, ovviamente perché partono dalla posizione geopolitica avvantaggiata, ma anche perché sono scritti in maniera più appassionante in genere, no? Sì, sì, poi voglio dire, appunto, non è detto che anche il giornalismo non possa avere un suo piglio narrativo e che questo... Sì, 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 no, no, certo... Però vedi, al di là delle pratiche, ad esempio, su questo con te dissento perché io sono un grande fan della solitudine dal punto di vista creativo, però invece per me non deve avercelo, e forse su questo siamo d'accordo, il risultato finale, cioè quello deve dialogare col mondo. Però la cosa che io notavo anche nel tuo libro, e secondo me la diversità è anche qui e in questo, è che è molto impostato su quello che si chiama, no, show don't tell, cioè nella nostra tradizione spieghiamo tantissimo le cose, c'è molto più o meno spazio per il pensiero esplicito, anche forse, non so, a foto di una nostra tradizione scolastica, del temibile pensierino, è un peccato di cui in una certa misura mi sono macchiato anch'io, quindi, diciamo, lo sto identificando come una questione, cioè non dall'esterno, no? E mentre invece, appunto, nella tradizione anglosassone è tutto molto più analitico e più giocato sulle cose che succedono, che poi ovviamente aprono altri livelli di lettura, la teoria può essere nascosta sotto l'azione quando uno è bravo, no? Però passa principalmente da là, invece da noi è più mediata, no? Questa è la cosa principale che mi viene in mente. Sì, ma un po' non lo so se, cioè, sicuramente lì c'è anche la mano dell'editor del libro, che si chiama Jerry Howard e che era, insomma, ora si è ritirato, ma è stato un editor molto importante, è stato il primo editore di David Foster Wallace e ha una mano leggera sull'editing che fa sulla pagina, ma in poco tempo tu riesci a capire che cosa è che ha bisogno di emergere e che cosa invece può scivolare via, con un tratteggiamento abbastanza delicato. Secondo me, in realtà, io personalmente non sono così spuderatamente una fan del show Don't Tell, cioè, secondo me, un buon equilibrio tra mostrare un'azione, aprire una scena e però anche accompagnarla con qualcosa di caldo e di ragionato, quando viene fatto bene, per me è sempre una vittoria, perché poi anche il pensiero, anche prenderti un passo indietro dall'azione, insomma. No, certo, guarda, allora, io adesso sto per dire una cosa che suonerà come una banalità, ma credo che sia vera, ogni tradizione, ogni approccio ha i suoi pro e i suoi contro e quando una cosa viene fatta bene all'interno di un canone è buona, cioè, può essere, ci sono libri di lingua della letteratura italiana dove veramente il numero di cose che succedono è limitato, ma sono bei libri, quindi è sempre una questione che all'interno del canone in cui ti muovi o lo puoi far bene o lo puoi far male, però ciò non toglie che secondo me ci sono delle differenze sostanziali, no, che si vedono. Senti, una cosa che mi ha colpito, che ad un certo punto spunti nel documentario su Chiara Ferragni, e dici una cosa che in quel momento stavo pensando anch'io, infatti poi l'ho scritta fra le altre in un lungo articolo che ho fatto sul foglio, su quel documentario, e cioè dici che la narrazione della Ferragni è una narrazione che ha eliminato gli ostacoli, no? Quindi diciamo ha una forma... Il conflitto. Il conflitto, sì, ha eliminato il conflitto, gli ostacoli e quindi è fatta solo di polarità positive. L'ho trovato molto a fuoco, molto giusto, molto intelligente, e poi mi sono anche chiesto, ma forse, cioè tu ti sei chiesto perché? Cioè nel senso, perché fondamentalmente è una pubblicità, perché forse di poli negativi, di conflitti, di ostacoli, ce ne sono già abbastanza nella vita delle persone che seguono l'influencer, e quindi la polarità positiva è deputata tutta all'influencer e poi quella negativa, ci penso io, che potrebbe essere... Cioè la ragione per cui questa cosa ci funziona, cioè per cui continuiamo a tornare a una... a chi ci può dare una visione priva di conflitto, secondo me ha un po' a che fare con questo, nel senso che abbiamo bisogno di credere in qualcosa di così serafico e gioioso e proattivo, cioè questa cosa di cui parla spesso Chiara Ferragni è questa idea di essere la versione migliore di se stessi, che è un po' una specie di ansia anche da performance che abbiamo sui social media, ma che è anche quello che andiamo a cercare degli altri quando andiamo sui social media, ed è anche quello che poi troviamo degli altri, perché nessuno di noi posta delle brutte foto di noi stessi sui social media, cioè si cerca sempre di riprodurre qualcosa, come dire, di elevato, di interessante, di esteticamente piacevole. Quindi penso che sicuramente ci sia il desiderio di far riposare la mente, lo so. Però è anche questo riposo della mente, ecco, poi può prendere delle sfaccettature anche vagamente inquietanti, sicuramente. Ah sì, sentendoti parlare penso un po' alla radice quasi teologica di questa cosa. Io ho sempre avuto l'impressione, ho scritto in un pezzo tanti anni fa su Gallipoli, eccetera, niente. No, però c'era stato questo cambiamento, mi era sembrato, erano contesti diversi, però tutto sommato anche con dei punti di contatto, fra il mondo del billionaire e quindi per estensione il mondo, diciamo, del, come si chiama, insomma, la gente che voleva andare nel backstage o comunque nel privé, o insomma questi ambienti chiusi alla maggioranza del popolo, dei clienti, insomma, delle persone, quindi in questa sensazione di esclusività, per pochi, ha una transizione, transizione poi attraverso i telefoni, ha invece un mondo in cui ognuno si crea il suo gota personale, il suo, diciamo, sistema di santi privato e in cui si può tranquillamente posizionare all'interno anche lui. Cioè, io lì notai, mi sembrò di notare, almeno che la gente non spingeva più per entrare nel privé, non c'era forse neanche più un privé, perché non avrebbe avuto senso, che tanto l'importante era farsi la fotografia instagrammabile, anche se allora andava più Facebook, però diciamo per i social, con i propri amici, e quindi, diciamo, il momento di creazione di senso non era più deputato all'esterno, ma era, cioè, la tua dimensione metafisica era creata privatamente, non aveva più bisogno dell'approvazione di altri, no? E questa era una, secondo me, adesso, magari sono conclusioni eccessive, però mi venne questa sensazione guardando questa scena, no? Perché poi è quello che dicevi, e sentendoti parlare adesso mi sembra un po', vado nella stessa direzione quello che stai dicendo. Cioè l'idea di avere un mondo ideale di riferimento, veramente per certi aspetti metafisico, in un mondo che non contempla più una dimensione metafisica, però attraverso l'immagine, no? L'immagine digitale, spostata, è molto interessante questo, secondo me. Sì, poi chiaramente, insomma, abbiamo anche, siamo anche diventati dipendenti invece dal conflitto, nel senso se la serialità ormai è anche molto dettata, come sappiamo, dall'algoritmo che ti dice, ok, sì, ma siamo già al quarto minuto e non è successo niente, quindi il meccanismo che poi ci tiene aggrappati a una serie, spesso invece non è assolutamente quello che ha a che fare con il riposo della mente, ma è proprio la testa che invece si annoia se non accade qualcosa che ci faccia dire, che cosa è successo, quindi è anche una strana, è una strana sfera quella in cui stiamo vivendo, cioè l'intrattenimento che cerchiamo da una parte è appunto una specie di mondo vattato, filtrato e dall'altra invece è una ricerca proprio di quell'adrenalina là, che è l'adrenalina, insomma, degli imprevisti e del conflitto, del contrasto. Sì, in certo senso è un problema di dipendenza anche, nel senso che comunque ci sono ricompense neurologiche, no, per il superamento degli ostacoli, dei conflitti e io ho visto tante serie che secondo me sono oggettivamente mediocri, però volevo vedere come andavano a finire. Assolutamente. Non so se capita anche a te. Purtroppo è una scienza. No, no, certo, però non toglie che poi spero sono anche un po' di cartone queste nello specifico, nel senso che poi non te le ricordi, sono rilevanti, ti lasciano come ti hanno trovato e nel senso hanno riempito un po' il tempo, ma non sono cose di cui parlerai fra dieci anni, no? Magari, fra venti, questo è un po' la controparte. L'altra cosa che pensavo sulla narrazione senza ostacoli è che forse risponde anche un po' all'esigenza contemporanea di eliminare proprio concettualmente l'idea dell'ostacolo, no? Tu sei anche madre, magari hai riflettuto su questo, anche sulla pedagogia contemporanea, no? Questo fatto che si tende a iperproteggere i bambini e comunque anche l'estensione indefinita del concetto di offesa, qualsiasi cosa offensiva, eccetera, eccetera. È come se si stesse spingendo un po' l'idea stessa di ostacolo e di conflitto ai margini della società, no? Ovviamente questa è una cosa, è una manovra che non può riuscire, ritorna poi, probabilmente amplificata. Però è, diciamo, una delle tendenze del tempo, no? Quindi una narrazione che queste cose te le è pura già in partenza, magari di successo anche per quello. Questa è un'idea interessante, non lo so, però sicuramente non possiamo non vedere che sì, che ci stiamo muovendo anche nell'educazione delle nuove generazioni in un avattamento completamente fuori scala, perché per tutto quello che sappiamo, insomma, già il fatto di non poter godere della libertà di fare sega a scuola anonimamente, penso che per un adolescente sia abbastanza… insomma, non so immaginare che cosa possa comportare il fatto di essere comunque così a portata di mano degli adulti e così hai l'app che ti dice in ogni istante dove si trova tuo figlio e poi tu ti lo toglie, stacca l'app in modo da non farsi ritrovare, però comunque di base… Posso dirti, io questa cosa l'ho scoperta questa settimana, me l'ha fatta vedere un mio amico e io vivevo serenamente all'oscuro di questo fatto e mi ha gettato in uno sconforto profondo. Cioè l'idea è che un ragazzino non possa non andare a scuola senza che… o arrivare due minuti in ritardo… Io sono arrivato in ritardo tutti i giorni dei cinque anni superiori, abitavo di fronte alla scuola, ma forse arrivavo in ritardo per quello, non lo so. Però mi sembra una dimensione totalmente antipedagogica, cioè come può sviluppare la capacità di scelta una persona che non può scegliere? Sì, sono pienamente d'accordo, non so che dire a questo proposito. Cioè penso che la mia fortuna nella vita è stata proprio quella di fare degli sbagli nei momenti in cui era lecito farli e imparare dai miei errori e poi ritardare il colpo andando avanti con l'età. Quindi se poi in quell'età lì, che è proprio l'età in cui devi non solo fare degli errori, ma fare dei grandi errori, cioè fare degli errori colossali, cioè è talmente importante poter avere quella libertà che non lo so come si ripercuoterà questa assenza di spazio, di movimento. Non ho idea. Ma forse è una posticipazione. Io sempre cerco di non essere proprio così manipolatrice o manipolata a mia volta dai mille sospetti, le mille paranoie, però sappiamo che siamo anche, come generazione di genitori, stiamo probabilmente sbagliando tantissime cose. Se i nostri sono stati troppo così sbadati o disattenti, sicuramente noi lo siamo fin troppo. No, ma infatti, prima forse, Savafer non è il termine giusto rispetto al personaggio del tuo libro, però c'è una forte, quella che Taleb avrebbe chiamato antifragilità, cioè nel senso, attraverso tutta una serie di situazioni anche difficili, poi però il personaggio, questo dice quello che succede nei romanzi, però in realtà è credibile, funziona bene, e in un certo senso la pedagogia è questa, poi si può svolgere in molte maniere, molto diverse, più o meno intense, però se non c'è un passaggio di quel tipo è difficile, il rischio è quello probabilmente di posticipare questa fase dopo, un periodo della vita in cui non te lo puoi più permettere, magari, no? Beh, sì, stanno tutti diventando adolescenti verso i 24 anni, sembrerebbe che ci stiamo muovendo in questa direzione qui. Sì, però è un po' rischioso, per molti motivi. Sì. Anche, insomma, psicologici, non solo, insomma. No, ma insomma tutto questo è molto, sicuramente molto presente in terremoto, cioè l'adolescenza brada è proprio una grande, è una grande tradizione anche della vita californiana, che è una vita che ha a che fare con l'adolescenza, con il surf, con lo skate, con questo proprio contatto anche con questo scontrarsi con le imposizioni della società, che sono molto più forti lì, perché ovviamente tu non puoi bere fino a 21 anni, non puoi entrare in un locale di musica dove si serve l'alcol fino a 21 anni, quindi tutto questo poi crea una fortissima sottocultura giovanile di ribellione, di scontro, che magari qua c'è un po' di meno, sicuramente. Sì, questo mi ricordo una volta ho fatto un pezzo su, diciamo, il mondo letterario russo New York, però, e parlavo con un agente mezzo americano, mezzo russo, lui mi diceva che era stato, mi sembra forse ad Harvard, comunque mi diceva che sapevano bere, cioè senza rovinarsi ogni volta, cioè diciamo lui, almeno la gente che conosceva lui, e i portoricani, perché i portoricani praticamente addirittura quelli che conoscevano lui riportavano i superalcolici genitori, e questi non è che se arrivavano alla cassa di superalcolico se la bevevano tutta quella sera, no? Diciamo che l'americano è abituato alla previsione, il momento in cui c'ha lì due bottiglie di... non so se questo hai avuto modo di esperirlo anche tu. Sì, beh, c'è un'ossessione con l'alcol che a noi italiani ci fa ridere, perché comunque cresciamo, che a tavola c'è il vino, e chi di noi non ha avuto il nonno che ti versava il bicchiere di vino rosso da piccolo, penso che le prime ubriacature sicuramente mie sono state in famiglia, comunque questa è abbastanza da piccola. Certo, sì sì. Questo sì, chiaramente come tutti i tabù poi si è amplificato, e c'è una specie di feticcio sull'alcol che hanno gli americani che gli europei non hanno. E la storia dell'alcol in America poi è una storia talmente complicata e carica di significato, il proibizionismo, insomma, anche nella tradizione letteraria l'alcolismo è una grandissima componente, però è proprio un personaggio l'alcol in America, cioè è un personaggio letterario. Sì, ma infatti io poi mi sono sempre chiesto, ci sono dei personaggi letterari che bevono quantità che oggettivamente non sono possibili neanche in Triveneto, e tu dici che sono formule retorico, effettivamente c'è gente che beve così tanto? Non so se mi hai chiesto, perché alle volte al quindicesimo whisky nella giornata del personaggio romanzesco dici, ho capito, ma questo sta ancora camminando in piedi, capisco che ti serviva un'intercalazione da farli fare, però. E si beve un altro whisky al bambino. O dici che c'è proprio una questione di tolleranza maggiore? Non lo so se c'è una tolleranza maggiore, però c'è una danza che accade intorno al bar, intorno al mondo del bar, del sedersi al bancone, di ordinare da bere, di poter fare quel famoso gesto in cui chiedi un altro drink al bancone, cioè c'è una coreografia dell'alcol che noi non abbiamo, non abbiamo in maniera così determinata, abbiamo un altro tipo di movimento attorno all'alcol. Lì c'è proprio anche un senso del dovere che tu hai rispetto all'alcol. Quando stai bevendo un barista ti potrà dire «Are you still working on it?» Cioè stai ancora lavorando al tuo drink o posso dartene un altro? E quindi c'è un senso, secondo me, proprio di appartenenza e di identificazione culturale con l'alcol che qui non c'è. E lì c'è in questo modo così spaccettato perché poi ha avuto delle diverse sfumature, ha avuto delle diverse sfumature storicamente, culturalmente per quel paese lì. Poi non c'è la piazza anche. E non c'è la piazza, sì, fondamentale. Quella è proprio una differenza culturale enorme, non è solo dovuta alla temperatura, perché ad esempio in California non fa freddo però. Sì, la mancanza di piazza forse è stata la cosa sicuramente che mi ha più destabilizzata quando sono arrivata a Los Angeles, che è proprio una città dove non ce n'è neanche una di piazza. Veramente credo neanche una. E quindi poi ti viene da ricreartela in altri modi la piazza, quindi il parcheggio diventa la piazza, il parcheggio delle macchine diventa una piazza, perché comunque è un luogo che ha una sorta di circolarità, che è un quadrato, però hai questa sensazione di poterti guardare intorno e vedere delle facce attorno a te, non soltanto dritto davanti a te. E poi ci sono i luoghi della natura che prendono i posti delle piazze, le grotte diventano delle piazze, le montagne diventano delle piazze, cioè dei luoghi dove ci si può radunare senza dover includere il fuori, come dire, racchiudersi in una specie di piccola bolla, perché poi le piazze sono delle bolle viventi all'interno delle città. E quindi a Los Angeles penso che il modo per crearsi le piazze poi ognuno, soprattutto in adolescenza, se lo va a cercare. È però proprio da adolescente, magari in piazza uno può anche conoscere della gente nuova, specie se arriva in un posto, eccetera, che lì forse è il ruolo del bar, un po' di più. Anche da noi esistono i bar, però non... Sempre, no, il bar ha un aspetto orizzontale, no? Cioè è un pancone, quindi tu sei seduto in orizzontale, quindi non hai mai quel... cioè l'elemento della piazza è proprio, no, il potersi guardare, il potersi anche intravedere, guardarsi con la coda dell'occhio, cioè apprendere, come dire, coscienza dell'azione attorno a te tramite una visione a 360 gradi, mentre lì non c'è questa cosa, perché appunto hai la spiaggia come luogo di ritrovo, cioè i surfisti si ritrovano, ma di nuovo sei in una realtà orizzontale, cioè c'è la spiaggia e poi c'è il mare, ma non c'è un... non c'è il controcampo, insomma. Eh, non è male. Il prossimo libro è orizzontale, anche se in questi tempi è rischioso, non è che ci penso, è quasi tutto rischioso ormai. Vabbè, senti, e a cosa stai lavorando adesso? Sto lavorando a delle serie televisive e poi sto lavorando al prossimo romanzo che è sempre ambientato in California durante la Seconda Guerra Mondiale e ha un piccolo saggio, sempre su Los Angeles, quindi continua l'ossessione per la città, però in sfaccettature molto diverse, diciamo. Interessante. Ma senti, e poi hai partecipato a una raccolta di recente, con un racconto... Sì, il Decameron abbiamo rifatto con un gruppo di scrittori, insomma, con cui siamo divertiti molto, una riscoperta del Decamerone di Boccaccio, in cui ognuno si è preso una novella a scelta e se l'è reinventata e riraccontata. E quindi è uscito qualche mese fa con HarperCollins e ci siamo, insomma... è molto divertente perché nel Decameron questo gruppo di amici si ritrova chiusi in casa perché c'è una pandemia, no? E quindi si trovano a raccontarsi delle storie mentre là fuori nel mondo sta succedendo c'era la peste e quindi...